Cari amici, è padre Elia che vi parla dal Tempio della Regina dei Gigli in San Giorgio a Cremano, Napoli. Dal 21 maggio al 2 giugno si è svolta la undicesima edizione del Festival Biblico a Vicenza, tra i relatori il presidente dei climatologi italiani Luca Mercalli. Mercalli ha illustrato al pubblico vicentino un panorama piuttosto inquietante, perché ha detto non c'è un pianeta di riserva e non è solo un problema di clima. Ci sono questioni come l'acidificazione degli oceani, il buco dell'ozono, lo squilibrio dei cicli dell'azoto e del fosforo, la carenza di acqua dolce, il consumo del suolo, le deforestazioni nelle zone tropicali e la cementificazione nei paesi occidentali, la perdita della biodiversità particolarmente grave perché è irreversibile. E poi c'è l'inquinamento che ci preoccupa di più perché influisce subito sulla nostra salute. Mangio, bevo, respiro materiali tossici, mi viene il cancro, la grande epidemia dei nostri tempi. Quindi arriviamo al clima con una concentrazione di CO2 nell'atmosfera come mai prima era accaduta e come avere l'esame del sangue con la glicemia su valori insostenibili o ci si mette a dieta oppure è diabete sicuro. Cari amici, al riguardo Papa Francesco all'udienza generale del 21 maggio del 2014 così si espressa. Quando noi sfruttiamo il creato distruggiamo il segno di amore di Dio. Distruggere il creato e dire addio non mi piace, questo non è buono. E cosa piace a te? Disse il Papa. Mi piace a me stesso. Ecco il peccato. Avete visto? E la custodia del creato è proprio la custodia del dono di Dio e anche dire addio grazie. io sono il padrone del creato ma per farlo andare avanti non lo distruggerò mai, non distruggerò mai il tuo dono. E questo deve essere l'atteggiamento nostro nei confronti del creato, custodirlo perché disse il Papa se noi distruggiamo il creato ci distruggerà. Cari amici, ringraziamo Dio per il dono che ci ha fatto della vita del creato e chiediamogli con umiltà che crei in noi un cuore puro, libero dalla contaminazione del peccato per poter essere custodi e non distruttori del creato. Cari amici, è tutto per adesso. Ciao e Dio vi benedica sempre.